La performance che ti aspettavi o qualcosa che non puoi aspettare? No, più o meno. Ora facciamo P2, ma vediamo ora che gli altri gruppi facciano. Magari i tempi venivano un po' più alto, e i track più slide, ma vediamo. È ancora un po' lungo per andare. Sì, comparito al lap time di questa mattina, tutti i gokarts sono più piccoli. Cosa è la parte pezzi pezzi? Penso che i passatori sono più piccoli. Molto slide? Sì. Grazie.